Tornando seri, insomma comunque è un ballottaggio, seri è una grande parola, ballottaggio fra chi? Tra Vendola? Attenzione perché qui alla sezione PD-Sell del Testaccio, secondo un giro da Pegro noi abbiamo intervistato qui fuori chi aveva votato e è finita quanto, mi pare quasi un testa a testa quasi Vendola a Bersani. Una trentina a testa? Sì, più o meno, un po' di più, un 35 a testa, mi pare 5 voti per Renzi, forse 2 o 3 voti per l'Appucato. Grande Deluso Renzi? Grande Deluso Renzi qui al Testaccio, sì, attenzione. Un bezzo, vabbè, via, siamo attestati. Eh beh, ma qui signori, qui c'è la polizia popolare del Testaccio, qui non passa lo straniero. Perfetto, salutiamo la nostra Francesca.